L'ISI si è sempre finanziata con un sistema di tassazione simile a quello nostro. Loro hanno un forte senso della nazione, hanno capito che avevano bisogno del consenso della popolazione, quindi una volta conquistata la popolazione militarmente, ritirano le truppe e mandano avanti la cosiddetta pubblica amministrazione, quindi civili, che cominciano a organizzare una serie di opere pubbliche per ricostituire la società. Chiaramente noi stiamo parlando di regioni che sono state vessate dalla guerra, dai signori della guerra, dai gruppi criminali per un lunghissimo periodo di tempo. Quindi la popolazione già reagisce positivamente a tutto questo. Dopodiché consegnano le risorse strategiche ai leader tribali, che agiscono un po' come le corporation nostre. Quindi l'idea tribale delega poi la gestione di queste risorse ai vari membri della tribù e alla fine pagano le tasse.